Apocalisse Posso dirlo? Non conto niente Avevo una zia vestita di bianco Un sogno di zia che per addormentarmi da bambina Mi raccontava l'Apocalisse Premere il tasto 1 Per innescare la seconda minaccia Premere il tasto 2 Per parlare con un angelo Premere il cancilletto Per comunicare con Dio Per comunicare con Dio Per comunicare con Dio Per comunicare con Dio Il numero Non è attivo Eccoli Eccoli E' sigillato Con sette sigilli Eccolo 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 Megatricamente Adio Eccolo Così E apri il primo sigillo, e apri il secondo sigillo, e apri il terzo sigillo, e apri il quarto, e apri il quinto sigillo, apri il secondo sigillo, e apri il secondo sigillo, e apri il secondo sigillo, primo sigillo, e apri il sotto sigillo, e apri il secondo sigillo, allo amo il suohee, rosti e quest'entrio, so pow20 i chiudelliscutigigio, ma vioof il secondo sigillo, ... ... ... Di certo, nell'abisso di fuoco ci vado. E il dodicimila e uno è quello che si è pentito un attimo dopo in ritardo. E Giuda? Dodicimila e uno. Dicimila 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 e uno.